Sconto di pena in secondo grado per Franco Antonio Genovese, da 11 anni a 6 anni ed 8 mesi. E' questo l'esito del processo d'appello Corsi d'Oro 2, l'inchiesta sulla formazione professionale che tra il 2013 e il 2014 permise di svelare una rete di società interconnesse tra loro e fondate appositamente per sottrarre fondi europei. La Corte d'Appello ha assolto Genovese dalle accuse di riciclaggio e autoriciclaggio mentre sono prescritti alcuni capi di imputazione per reati fiscali e truffa. Confermata per il resto la condanna, l'ex sindaco di Messina è stato giudicato colpevole anche in secondo grado di associazione a delinquere, tentata estorsione ai danni di Ludovico Albert di due ipotesi di reati fiscali e due ipotesi di truffa, una delle quali ai danni dell'Enfa e l'altra in concorso ai danni della Regione. Aumento di pena invece per il cognato Franco Rinaldi, condannato in secondo grado a 3 anni e 2 mesi. In primo grado aveva avuto 2 anni e 6 mesi, era stato infatti assolto dall'accusa di associazione a delinquere che invece la Corte adesso ha riconosciuto fondata. E ancora, sconto di pena per la moglie di Genovese Chiara Schirò da 3 anni e mezzo a 2 anni e 6 mesi e per la moglie di Rinaldi Elena Schirò da 6 anni e mezzo in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Secondo IPM, è remersa una rete estesa e preoccupante di complicità in palese conflitto di interessi che ha sottratto importanti risorse ad un settore vitale come la formazione professionale con tanti giovani in cerca di occupazione per reati che appaiono di irrilevante gravità per le responsabilità pubbliche di chi li commette. La sentenza di primo grado aveva tuttavia derubricato il reato di peculato in truffa. Decisione impugnata dalla Procura. Genovese è stato arrestato il 15 maggio del 2014 quando era deputato nazionale DEM, poche ore dopo l'autorizzazione a procedere concessa dalla Camera.